Oddio, qua c'è uno che citta, perfetto Oddio, quanto volla veloce No, 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 no Salve gente, buona domanda, questa è la nuova Satex e oggi siamo qui come di Marquez su Minecraft per fare The Skyward su Cubecraft e oggi lui ha la voce leggermente esplosa quindi, eh, succede si sta deprimendo nell'ancorino ok, ma oggi andiamo a fare The Skyward possiamo fare qualche bella vittoria prima di iniziare vi chiedo di lasciare un bel polpo all'insù che mi rende molto euforico e ci vediamo in partita ok, signori, siamo in partita mappa Bugs Big Bug perché io sono con Allah? ah, sono da 3 euro questo Allah è già andato a mellare ma cosa fai? ma quanti sono? sono miliardi non dirmi che ci hanno già ucciso Allah ma è un gelito giù no, è ancora vivo era l'angelito? si, era un gelito che bello che cacchio spandi vieni Allah sto arrivando ho ucciso un tipo che bello oddio, qua c'è uno che citta perfetto si, che sono straci oddio quanto vola veloce sono messo la speed no, no via via brutto sei bruttissimo questo, no aia, aia, aia dolorissimo, dolorissimo ma che cazzo no, la gente così no sto rippando continua colpendo da mille ma cosa cazzo di hack ma che hack sono che cos'è l'anticid di sto server è un culo comunque ci siamo mappa paint signori dopo essere stati stuprati da un hacker pesantissimo ce lo possiamo fare a vincere era lungo era lunghissima, aveva molti tipi auranti, knockback, gesù mi fa tutto quel tipo se vuoi un acquitrino, te ne posso fornire anche due bisogno di qualsiasi cosa ok, tieni un acquitrino sono messo di culo ma di culo proprio eh si, i pantaloni, qua c'è una chestplate vai la chestplate, vai la chestplate non sei più messo di culo yeeeh shkere, shkere, shkere dagli altri avranno tutti l'arco quanto mi sento a disagio a buildare in diagonale ma proprio un casino ah no vediamo che vuoi bruciate beta aspetta ancora più di più la prossima volta, va oh, un belicio mena al belicio davo il belicio questi qua se li mettiamo da lavarippano, eh no, anche questo qua è concio questo è quasi morto e muori no, non è lavaria questo col piccone ti sta a menà no, non c'è nemmeno arrivato da me era tu, mi sa? no, no, non era mia tieni un po' di cose se ti servono magari... se eviti di tirarmi addosso lo scroto sarei un po' felice sai, non è mai piacevole avere dello scroto in faccia eh, vediamo un po' ecco, Wrecked by Davaiana è una delle balderacche, dobbiamo ucciderla e ne vengono me e ne vengono me e ne vengono me rip mlg water l'hai messa perfetta poi sei esploso di danno nell'acqua va bene tutto legit non ti avrei preso mezzo cuore ah no, un cuore al mezzo qua fuck the smokes una freccia oh no, la raccolta non volevo ho frecciato la balderacca double dovevo devastarle eh, ma sono laggiù è vero, possiamo scappellarle da qua stavo per volare nel vuoto in una maniera assurda vai 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 in due ce la possiamo fare, eh anche uno da solo ma non sono così tanto sicuro una là e una là ok probabilmente sono tutte due maschi, al fine ehi, dad ok, da c'è gente orribile no, non l'ha riproso l'acqua arriva non l'ho ancora presa ok va un po' più bello l'ho bevuto sembra che spami qua dietro c'è una tipa nuda vai via come vai è volata nel vuoto fortissimo che cacca si metteva la pietra che è un energy water fast fastenezza all'interno no, no, saltiamo mentre si farà si occhio questa questa ci apre a tutti eh bravissimo sei andato a menarla forte oh non sapevo che l'avrei esplosa altrimenti non sarei andato perchè li buttavo giù ok allora questa via questa no, quella era una shakness 2 quella mi serve è uguale quando c'è solo una tipa sei sicuro che c'è una tipa? un giorno ci metteremo le skin da baldrack e faremo le sky wars con quelli oh sono così bravo dove sei? sono da lui e perchè questo sono così bravo volante? vai nel buco oh oh gg oh chi in 5 oh io chi in 3 quindi signori per questo video è tutto quindi vi ricordo di lasciare un bel polpo in su così sono felice 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 come ci sono ribate davanti a te vabbè e di commentare e condividere con tutti aspettaci e noi ci rivediamo bella ciao